e con il programma web alternativa contigo. Io sono BJ Sebas e adesso partiremo con lo spettacolo. L'arte e studio danza è una scuola che hanno avuto in sé stessa ragazzi notevole talento che si sono fatti valere in questi anni di vita dell'associazione. Cose importanti, i loro insegnamenti provengono dagli eccellenti maestri che fanno parte del corpo docente della scuola. Ora vi spiego anche due parole, due parole sul nostro programma alternativa contigo che è una pagina che abbiamo creato io e BJ Luke su Facebook e quando avete tempo se ci mettete un like siamo contenti, chi non l'avesse già fatto. Noi mostriamo video di cantanti, cerchiamo di scoprire talenti per quello che riguarda lo spettacolo, la musica ma non solo, quindi tutti i tipi di talenti emergenti e anche se a volte ci capita di intervistare anche qualche personaggio importante, perché no. Ci colleghiamo in diretta anche con loro per fare delle interviste molto spesso anche dall'altra parte del mondo. da poco ho intervistato due ragazzi in Brasile, quindi capita spesso che abbiamo questi collegamenti e quindi facciamo una cosa alternativa, un po' diversa. Ma ora è venuto il momento di presentarvi il mio compagno di viaggio, BJ Luke! Buonasera, 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 come state? Tutto bene? Allora adesso faremo la presentazione dei nostri ballerini e cantanti poi cominceranno le serate di balla e canto al teatro vi faranno un saluto molto veloce e poi cominceremo e quindi in regia puoi andare con la musica a tutti i nostri ballerini e cantanti la prima scelta è stato il corso di provvedente la seconda è il primo corso di danza classica questo è il quarto corso di danza classica danza moderna adesso ci sono i corsi intermedi di danza contemporanea e pop to you double up tell me something girl are you happy in this modern world oh do you need more is there something else you're searching for I'm forgetting in all the good times I find myself I'm longing for a change is there something else you're searching for and in all the good times I find myself and in all the good times I find myself and in all the good times I find myself adesso due ballerini che ci faranno vedere voi con i loro video e vado alla ricoppia che faranno due baciati e due salsa Francesca e Vincenzo forse applauso signori e signori Kylian 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 e quindi la buona giovana bravissima cantante adesso ve ne sentiremo a parlare Danila Videla Kylian applauso e voi adesso direte ma è lui o non è lui certo che è lui Gianfranco Campana Che è covenuto Grazie a tutti. Allora, adesso vi vado a presentare il primo gruppo, ok? Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti. Quindi, Diego, Melissa, Nicole, Maria Vittoria, Davide, Ernesto Andrea, Armando, Giulia, Noemi, Giorgia, Emma, Chiara, Mariamma, Melissa, Andrea Alberto, Chiara, Desiree, Sofia, Arianna, Valerio, Veronica e Mayla. Ci presenteranno una coreografia del maestro Giancarlo Solinas, un ballo in pop dal nome Brottas. Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie.